a tutti ragazzi visto che siamo sotto natale molti di voi si regaleranno o regaleranno ad altri uno smartphone volevo parlare di un fattore rilevante nella scelta del nostro smartphone tablet o cellulare non tutti lo sanno che oltre a guardare le caratteristiche estetiche e tecniche del nostro smartphone o di quello che andiamo a acquistare è sicuramente molto importante guardare il dato relativo al SAR cos'è il SAR il SAR dunque tradotto sarebbe comunque tasse di assorbimento specifico infatti la sigla sta per Specific Absorption Rate ed è un valore che indica l'emissione di onde elettromagnetiche del dispositivo il SAR viene misurato in watt quindi energia per chilogrammo il fatto con la W ovviamente e ogni azienda produttrice deve indicarlo sul proprio smartphone infatti due comitati per le comunicazioni la FFCC che è americana e la CNL che è europea hanno indicato che il valore massimo di questo dato sia 1,6 watt per chilogrammo questo dato è molto importante per la nostra salute infatti anche se non è ancora stato dimostrato la correlazione tra tumori e cancri e onde elettromagnetiche del telefonino molti studi le avvicinano le accomunano quindi lo fanno sospettare visto che ce ne va della nostra salute meglio non rischiare anche perché a noi non costa niente alcuni consigli per diminuire le radiazioni del nostro smartphone allora quando chiamiamo è meglio ascoltare usare un auricolare meglio col cavo e non bluetooth però si può usare anche quello bluetooth nessuno lo vieta non usare il telefono senza auricolare o viva voce in treni auto perché il modulo gsm continua a cercare la rete ed emetterà più onde e in più il sistema metallico del treno della macchina riflette un po il segnale lo rimbalza poi mettere in modalità aereo il telefono quando lo usiamo senza che ci serva telefonate internet eccetera o comunque usare la modalità aereo è solo il wifi quando magari siamo a casa guardiamo un video su youtube o giochiamo per intenderci qui in modo da disattivare la parte telefonica disattivare tutte le connessioni quando non le usiamo ad esempio il gps il wifi il bluetooth non ci servono in giro disattiviamo le ricordiamoci questo dettaglio e tenere telefono lontano dal corpo quando andiamo in giro quindi non nelle tasche di pantaloni o nella maglietta ma non non so un borsello una borsa eccetera le donne in questo ci aiutano hanno maschietti dunque vi do alcuni esempi relativi a dei telefoni abbastanza in voga in modo poi da orientarvi sono indicativi perché l'ho trovato su internet non sono quelli ufficiali suppongo allora abbiamo il huawei p8 con 0,43 watt per chilogrammi il p8 lite 0,39 watt per chilogrammi poi abbiamo l'iphone 6s a 0,98 watt per chilogrammi e l'iphone 7 a 1,37 watt per chilogrammi questo è tutto spero che questo video vi sia stato utile e se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima saluto a tutti ragazzi